Da qui la decisione, molto criticata, di rimodulare gran parte della programmazione, guidato anche nel suo piccolo dalla madre Carla Dall'Oglio. Quest'ultima. Con una grande passione per le serie turche. Alle pagine d'Italia oggi si legge. Pensi che quando vado a trovare mia mamma la trovo sempre che guarda serie turche. E mi dice. Ciao Pier Silvio, ora ti siedi con me. E la vediamo insieme, oppure torna un'altra volta punto. In arrivo clamorosi colpi di scena nelle prossime puntate della nuova soap turca di Canale 5. The Family. Nonostante sia iniziata da poco più di un mese, questa serie ha già catturato l'attenzione del pubblico, con momenti ricchi di tensione. Ma ciò che sta per accadere supererà di gran lunga ogni aspettativa. Secondo le anticipazioni turche, nelle puntate che vedremo prossimamente in Italia, la stagione si chiuderà con un evento sconvolgente, il fratello maggiore di Aslan. Chan. Potrebbe morire. E a premere il grilletto sarà proprio Devin. La psicologa. Ma non si tratta di un gesto privo di motivazione. Sarà un atto estremo di difesa nei confronti del marito. Aslan. Durante una lite furiosa tra i due fratelli. Cosa accadrà davvero a Chan? Nell'ultima puntata della prima stagione. La tredicesima nel formato turco. Vedremo Chan scoprire una verità devastante. Non è un vero Soikan. Ma un figlio adottivo. Questo segreto. Tenuto nascosto per tutta la vita. Lo getterà in una crisi profonda e irreversibile. La notizia sarà un vero shock per lui. Distruggendo tutte le certezze su cui ha basato la sua esistenza. Scoprirà che la famiglia Soikan. Che pensava di conoscere. Ha in realtà plasmato il suo dolore e la sua sofferenza. Fino a renderlo l'uomo tormentato che è oggi. Come se non bastasse. Emerge il sospetto che i suoi veri genitori siano stati uccisi proprio da Yusuf Soikan. Il padre adottivo. Questa rivelazione lo condurrà a un tragico epilogo. Con conseguenze che segneranno per sempre il destino della famiglia.